L'obiettivo è di ottimizzare, razionalizzare e migliorare la qualità degli eventi podistici presenti nell'area metropolitana della città. Promuovere attraverso lo sport l'immagine della città e l'idea che ispira Napoli Running, il progetto presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo, nato su impulso del sindaco De Magistris. L'iniziativa nasce per dare particolare risalto alle manifestazioni podistiche, che coinvolgono non soltanto professionisti, ma amatori e turisti provenienti da tutto il mondo e rappresentano un'importante occasione per scoprire le bellezze partenopee. Del circuito Napoli Running fanno parte la Coast to Coast Sorrento Positano Amalfi, prevista per il prossimo 14 dicembre, la mostra d'Oltremare Alf Marathon al Via il 1 febbraio e la Maratona Internazionale di Napoli il 15 febbraio. Diverse le finalità del progetto che vuole coinvolgere soprattutto i giovani per sensibilizzarli ad uno stile di vita sano. A parte l'impatto sportivo che è chiaro, genera una serie di altri impatti. Il primo è sociale, perché di solito queste grosse manifestazioni ispirano progetti di solidarietà e di beneficenza. Ha un impatto sulla salute. Nella nostra città abbiamo un problema di obesità dei giovani, quindi speriamo che questo possa ispirarli a muoversi il più possibile. È un impatto chiaramente economico.